Trascorri il Capodanno in un'oasi a due passi da te. Immerso nella Valle del Sele, erge l'hotel Terme Capasso, con percorso benessere, piscine termali e la forza delle cascate di fango della Fonte di Venere. Gran cenone di San Silvestro, con un menù raffinato, one-man show con Mario Pelliccia, e dallo scoccare della mezzanotte, a seguire disco per tutta la notte. Basta così poco per sentirsi bene. Hotel Terme Capasso, via Nazionale Bagni, chilometro 100.2, contursi Terme Salerno. Infoline 0828 995095, 0828 995833, www.termecapasso.it, info at termecapasso.it.